Edil Energia arriva a Pescara con uno showroom tutto nuovo Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Edil Energia è una società relativamente giovane ma che nasce dall'esperienza dei due soci con società che si occupavano sia di ristrutturazioni chiave in mani che di impiantistica La fusione di queste due realtà ha permesso di avere una società dinamica in grado di rispondere al mercato a tutte le esigenze che possono girare intorno alla casa quindi ristrutturazioni chiave in mano sì ma con particolare focus all'efficienza energetica agli impianti, alle finiture di ultima generazione e anche un occhio al design e all'arredamento Edil Energia si propone alla clientela come unico interlocutore in grado di eseguire lavorazioni con la formula del chiave in mano quindi dando un risultato finito come unico interlocutore essendo anche in grado di far vedere nelle nostre strutture con in particolare enfasi questo nuovo showroom di Pescara le soluzioni per la finitura e l'arredo delle abitazioni quindi possiamo vedere porte, finestre, porte scorrevoli, impiantistica, fotovoltaico, pompe di calore quindi diciamo un po' tutte le soluzioni di cui uno può avere bisogno per la propria abitazione Questa è una nuova avventura per noi, siamo a Pescara da oltre un anno e abbiamo poi nel tempo maturato la volontà di mettere a disposizione un nuovo spazio espositivo qui su Pescara proprio per poter crescere su questo territorio e mettere a disposizione tutte quelle che sono le competenze che abbiamo all'interno dell'azienda grazie al personale che compone la squadra e siamo molto contenti, molto orgogliosi del lavoro che è stato fatto per arrivare a questo punto questo sarà un nuovo punto di partenza su cui costruire una crescita dell'azienda ancora più importante e ancora più emozionante Nel nostro showroom abbiamo esposti diversi complementi d'arredo qui ci sono dei cammini in sospensione che possiamo vedere della spagnola Rocal sono delle soluzioni di design per riscaldare gli ambienti di casa oppure abbiamo altre soluzioni per il riscaldamento sia di tipo tradizionale che di tipo innovativo quindi sistemi a pompa di calore, aria aria, aria acqua sistemi in abbinamento in pianti fotovoltaici per l'autogenerazione di energia elettrica per fare in modo di autoprodursi l'energia necessaria anche per fare il riscaldamento quindi oltre che per le udenze elettriche di casa condizionatori di ogni tipologia anche innovativa sistemi di ventilazione meccanica controllata sia puntuale che centralizzata abbiamo l'illuminazione per gli esterni, gli interni, i giardini, i lampadari pensili abbiamo voluto qui in questo showroom esporre anche un sistema di pompa di calore idronica da incasso per far vedere come questo tipo di soluzioni possono essere anche ben integrate nelle murature, nelle tempurature esterne delle case per non avere la necessità esclusiva di un varo tecnico e poterle così installare anche dove lì non è stato previsto Edelenergia nasce con la volontà di integrare i servizi e di poter fornire al cliente l'opportunità di avere un interlocutore unico che potesse in qualche modo soddisfare le proprie esigenze quindi riusciamo con personale specializzato a seguire dalle fasi di consulenza passando per le fasi di progettazione e arrivando fino alla realizzazione delle opere e la fornitura dei prodotti Gli spazi espositivi hanno proprio la volontà di rappresentare uno spazio a disposizione del cliente nel quale poter toccare con mano le soluzioni, poter insieme ai consulenti, ai progettisti arrivare a definire quello che sono i progetti che si vogliono realizzare Abbiamo nei nostri showroom sia tutta la parte espositiva relativa ai serramenti, alle finiture di interni per passare poi all'impiantistica, inclusa l'efficienza energetica, quindi impianti a fonte rinnovabili, fotovoltaico, climatizzazione, pompe di calore, passando anche per la domotica e per l'illuminotecnica quindi per tutti gli impianti di illuminazione Ci sono quindi a disposizione tutte le tecnologie e tutti i prodotti che occorrono per poter dare un risultato che sia bello, esteticamente, funzionale e soprattutto anche efficiente Questa è un po' la filosofia dell'azienda, cercare di racchiudere tutte queste componenti in un'unica azienda che sia appunto in grado di stare a passo con i tempi, che riesca a dare le soluzioni che oggi il mercato richiede Edil'Energia è anche in grado di realizzare sistemi di condizionamento per locali commerciali o comunque per utenze residenziali di grossa dimensione o comunque di pregio come ad esempio sistemi canalizzati che abbiamo realizzato qui nel nostro showroom oppure sistemi a cassetta quindi con la canalizzazione a scomparsa anche dalla tipologia cosiddetta wind free cioè senza getto d'aria diretto sulle persone che è una tecnologia innovativa che stiamo proponendo ultimamente Abbiamo anche dei condizionatori diciamo atipici che si nascondono dietro un quadro che può essere anche un quadro di rilievo stilistico come ad esempio abbiamo questo condizionatore Artcool dove l'immagine è personalizzabile quindi ognuno può mettere quello che preferisce e che diciamo si presenta come fosse un quadro appeso a parete anche in realtà invece è una macchina che può fare caldo e freddo Abbiamo sistemi per la ricarica delle auto elettriche abbiamo tutta l'impiantistica diciamo di ausilio a impianti di generazione sia termica che elettrica quindi impianti fotovoltaici, impianti solari termici, cogenerazione siamo in grado di gestire tutte le soluzioni attualmente disponibili al mercato per l'ottimizzazione dei propri consumi energetici Edirenergia nasce nel 2018 ad Avezzano dove è ancora ad oggi la sede principale e la sua evoluzione è arrivata oggi ad essere organizzata su tre business unit Queste tre business unit si occupano di efficienza energetica di bandi e pubblica amministrazione e di ristrutturazione chiave in mano e vendita di prodotti in particolare l'efficienza energetica e la business unit delle bandi e della pubblica amministrazione oggi sta seguendo tutto il pilone del PNRR siamo attivi con già una gran quantità di bandi già molti anche aggiudicati per aziende e per pubblica amministrazione mentre la business unit di ristrutturazione chiave in mano e vendita di prodotti è la business unit che poi mette a disposizione questi spazi espositivi questi showroom ed è guidata da un business unit manager che si occupa appunto di organizzare tutte quelle che sono le necessità tecniche e gestionali per poter dare risposte a quello che è il mondo della casa Per la casa il nostro slogan è Efficienza e design per la tua casa l'invito che facciamo a tutti è quello di rivolgersi da noi per qualsiasi esigenza sulla casa con il nostro slogan Dai luce ai tuoi progetti Edil Energia arriva a Pescara con uno showroom tutto nuovo dove un team altamente qualificato sarà pronto a illustrarti le soluzioni ideali per il tuo arredo interno ed esterno potrai trovare una vasta scelta di porte e finestre dei migliori brand con profili e materiali studiati per la massima efficienza I nostri consulenti sapranno guidarti al meglio tra prodotti e idee per la riqualificazione e l'allestimento della tua casa con proposte di design e all'avanguardia Inoltre troverai un'intera area dedicata ai sistemi di condizionamento dell'aria con climatizzatori di ultimissima generazione che coniugano efficienza e tecnologia Vieni a conoscerci nel nostro nuovo showroom Inviati Burtina Valeria 71 a Pescara Inoltre troverai un'intera area